Ciao amici, eccoci per una nuova videoricetta. Oggi mi insegnerò tutti i segreti per fare un ottimo risotto. Andiamo a vedere Ingrid. Una cipolla bionda, 150 g di burro, 150 g di parmigiano, un bicchiere di vino bianco, 200 g di riso vialone nano. Il primo passaggio che andremo a eseguire sarà creare un burro aromatizzato alla cipolla. Quindi andiamo a tritare la cipolla e a scaldarla all'interno del burro. Andiamo a utilizzare la metà del burro. Procediamo nella ricetta con la seconda fase, la tostatura, la parte più importante della cottura del risotto. Andiamo a vedere come si fa. La tostatura va fatta esclusivamente a secco, non dovete aggiungere né burro né suo fritto. Quindi scaldate il risotto a fiamma medio-bassa, senza all'interno nessun tipo di grasso. Sottiamo finché non diventa bello caldo. Dopodiché sfumiamo. Nel mondo esistono oltre 120.000 tipi diversi di riso. Noi in Italia ne conosciamo solamente una decina, all'incirca. Provengono tutti unicamente dalla stessa pianta, ma sono divisi in commercio in due grandi gruppi. Quello integrale e quello raffinato. Quello integrale è quello che contiene la gemma e la parte esterna del chicco. Quello raffinato invece è quello che subisce un processo di sbiancamento all'interno dei mulini, con l'ausilio di sbiancanti naturali come il glucosio e il talco. Questo lo rende più stabile nel tempo, ma lo rende meno ricco a livello nutrizionale. Perfetto, il risotto è tostato, è caldo. Andiamo ad aggiungere un po' di burro aromatizzato alla cipolla, andando a eliminare la cipolla dritta. La tostatura è fondamentale nel risotto perché concentra il suo sapore, quindi lo rende molto più intenso e mantiene di più la cottura del tè. Una volta che sfrigola, andiamo ad aggiungere il bicchiere di vino bianco. Per vedere se il vino è sfumato completamente, basterà mettere il naso sopra la pentola. Quando non sentiamo più il sentore di alcol, il vino è sfumato completamente. Andiamo a bagnare con il brodo. In base alle ricette che andremo a fare, e che andrete a fare a casa, dovrete selezionare il risotto migliore. La scelta del risotto si differisce in due grandi categorie, risotti collosi e risotti non collosi, in base alla qualità dell'amido che contengono all'interno. I risotti collosi contengono un amido non idrosolubile, quindi durante la cottura all'interno di un liquido andrebbero a spappolarsi. Per i risotti non collosi, invece, contengono l'amido idrosolubile, quindi quell'amido che si va a sciogliere e crea quella cremosità, quella densità che a noi serve per fare un ottimo risotto. Per verificare se il risotto sta cuocendo nel modo corretto, andiamo a vedere se il brodo è diventato una crema. Siamo arrivati al penultimo passaggio, la mantecatura del risotto. Andiamo a stemperare gli ingredienti quali burro e parmigiano nel risotto. Sempre fuori dal fuoco, continuiamo a sbattere energicamente il risotto finché non diventa morbido. Una volta finita la mantecatura, andiamo a assaggiare di sale e di pepe e regoliamo. Per vedere se il risotto è mantecato correttamente, la prova del 9 è che la cremina non si stacchi dal risotto, quindi sia tutta omogenea. Come vedete non è separata, il risotto è mantecato correttamente. E anche oggi abbiamo visto come fare in pochi passi un ottimo piatto. Ora non vi resta altro che provare e riprovare, finché non vi esce un buon risotto. Vi aspettiamo alle prossime puntate, seguiteci su Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, tutti i canali insomma, nome Luigi Cassago o la cucina di Luigi. Mi raccomando, ultimo consiglio, il risotto, tenetelo bello morbido a Londra. Grazie a tutti.